Io penso che sia molto importante sapere cosa, dove si vuole arrivare e cosa si ha da dare a livello di energia, a livello di esperienza, a livello anche di classe proprio sul campo e quando ti fai un esame di coscienza e pensi di avere ancora qualcosa da dare di importante e soprattutto non ti senti ancora appagato, io credo che sia il messaggio più bello che ogni sportivo dà a se stesso. Quello di venire convocato, credere di nuovo in un progetto e rilanciare sperando che il finale sia migliore.